Se one shot un nemico il video finisce Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore fort così come vedete a schermo poi accettate E da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ragazzuoli ok l'avete letto dall'intro la sfida di oggi è se one shot un nemico il video finisce Alla fine il problema dovrebbe essere principalmente solo con armi come fucile a pompa o cecchini I cecchini non utilizzo quindi dovremmo stare solo attenti ai fucile a pompa Vediamo come finisce Adesso andiamoci a portare la pagnotta a casa oggi Dagli così andiamoci a portare la nostra pagnotta di win a casa Bella così E bella grazie dammi un po' di scudo gentilissimo iniziamo bene Diciamo che alla fine se io sparassi solo con fucile d'assalto e mitraglietta ragazzi Difficilmente io shotterò nemici D'altra parte mi dispiacerebbe giocare solo con queste armi evitando il fucile a pompa Quindi non fa niente ragazzi lo utilizzeremo Attenzione ci dovrebbe stare proprio un tizio qui Poverino diciamo che se l'è presa un po' male Ragazzuoli tra l'altro io vi ricordo che sto registrando questa sfida e streaming sul sito Viola Quindi c'è una chat dei ragazzi che mi stanno controllando Quindi non posso imbrogliare Se anche voi volete aggiungervi alle mie streaming che facciamo ogni sera Mi raccomando andate in descrizione nella sezione live streaming e iniziate a seguirmi Sia perché guarderete video in anteprima E anche perché molto spesso giochiamo sia a Among Us sia a Fortnite e a tanti altri giochi assieme Vi aspetto Attenzione mi ha visto Comunque ragazzi questo già l'ho sparato quindi non vale assolutamente come one shot Madonna che tre yardone Oh e taglie Uh fra 13 di vita che noia Mi sono spezzato le gambe di odio odio Ah questa cosa finisce male Cioè io sono partito con 74 ore di vita Cioè io sono partito morto a tutti gli effetti Dove sei dove hai visto Vieni qua Vieni qua caro Carissimo non ti preoccupare Vieni qui vieni qui vieni qui Oh ma che cos'è hai la mira un po' Un po' smissata Un po' un po' così eh Ok ragazzi Prima che qualcuno mi vieni a punire per ciò che ho fatto Diamoci velocemente un po' di scudi Dalle Dai birrilozzi E cerchiamo un po' di gente da eliminare Anche se prima volentieri mi fullerei O cercherei armi migliori Che sto messo molto male Ok dovrebbe starci proprio qualcuno qui a destra Un due tre No 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 connessione No mi è salito il ping in quel momento raga Wow raga È evidentemente connessione raga È evidentemente connessione Mi è salito 80 di ping nel momento preciso in cui Dicevo mi è salito 80 di ping nel momento preciso in cui Ho provato a spararlo Vabbè Allora ragazzi Il fucile di precisione non lo posso prendere Perché io non posso shottare le persone Quindi decisamente non posso permettermelo Ma vai apri 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 prego 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 E vieni 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 Che fai scappi Perché scappi Ma che è quello in cielo raga Ah ma un tizio Bra Bra No non scappare Ti prego Non mi fa sta kill Dai easy No No Se avessi avuto un fucile d'assalto Guarda se avessi avuto un fucile d'assalto Questo lo purgavo Sei Dai Quanti fantasmi ci sono Guarda tutti pronti a eliminarmi Uno in meno No raga Però qua così diventa pericoloso No ce l'ho in testa Ce l'ho in testa Questi mi fanno un assalto Mi menano Se si buttano due di loro addosso Sono morto Mamma mia Devo andarmene No mi sono chiuso Mi sono chiuso Via 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 Wow raga Appena l'ho detto Lo sapevo Vi conosco troppo bene Luri di fantasmi Vi conosco troppo bene Via 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 Devo rialzarmi raga Finché sto in alto Non ho problemi Vi conosco raga Io devo stare attento A non one shotarli Perché questi Se li one shot È un problema Cioè questo One shotarli È facile Specialmente se Li sparo col fucile a pompa Ok Questi magari ragazzi Se li one shot Valuto se farli valere Oppure no Mo valuto un attimo Ci penso insomma Che ansia Sti rumori strani Ma che pulite Sono di panzius Ecco qua Bel medikit Bella pozza grande Revolverino eh Revolverino tenta sempre Devo essere sincero Con una buona mira Che non ho più Corri Scappa C'è il nemesis Corri Scappa C'è il nemesis Allora io ci vorrei pure andare là Ci voglio pure andare Ma io so che là Faito sicuro con qualcuno Cioè ma Ma ci metto la mano sul fuoco Ragazzi Ma Cioè Ok Io non faccio domande Io racconto Due spara band A cosa mi servono Nella vita Cioè fortemente Me lo potresti far capire A cosa mi servono Cioè non lo so Puoi lama sotto acqua Ma che Vediamo se mi nota Spero di No mi ha visto Non mi ha visto Mi ha visto Non mi ha visto Aspettate Questo mi sta provando a cecchinare Goto Dai dai Che ce lo posso fare Ce lo posso fare Non lo vedo un tipo sveglio Dai 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 C'ha lo spasso No non c'ha lo spasso C'è il combat Mamma mia Meno male Che c'è il combat Mamma mia Meno male Oh 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 Mi ha dato più la vendetta Vendetta vera Non finire in galera Ok No non ci arrivi Non ci arrivi Non ci arrivi Non ti faccio arrivare Non puoi arrivarci Dai cecchinami 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 No ma questo si sta curando Davanti ai miei occhi Ho capito ben Cioè questo dizio si stava Allora dai Vediamo un attimo Di scendere Di piarci subito Un'arma Grazie mille Oh sempre una pistola Come prima arma È una maledizione Cioè sono proprio Martoriato Raga Ok due pistole Però sono già un po' Una cosa un po' più ridicola Cioè ho sentito già un tizio Che c'ha uno scar Ma io dico Io trovo tre pistole Startato il game E quello trova giustamente Lo scar Allora io dico A me va bene Che la mia vita faccia schifo Però non può fare così schifo O no Vi trovate raga Ha senso quello che dico Sta un tizio alla mia sinistra 70 E ripato Bella per te frate Questo aveva lo scar No non era lui Che girava con lo scar Va bene 24 goto Uh Bella fresca Questa vi è piaciuta raga Bello Sninciato Mi ero flashato un fucile a pompa raro Però io così Sto impazzendo ragazzi Allora sento un cecchino sulla sinistra Un tizio qua dentro Ah no ragazzi Sta arrivando un sacco di gente Calmi 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 Io mi chiudo Sono già in due Sono due ragazzi Non è uno Questo non mi ha visto No Dai No mi sono trovato per sbaglio Qua lasciatemi stare Godo Godo un sacco Godo proprio tanto Quel tizio Ma me lo vado a eliminare Per esempio Guys Porto di gamer Se ne esce bello pulito Ma lo Lo ha shottato Ragazzi Ora che ci penso Io prima quel tipo Avevo fatto 31 31 Quindi non lo ha shottato Io avevo già fatto danno prima Quindi Mi spiace ragazzi Annullata Allora io però Esatto sentivo un tizio Che stava sparando Ma questo che è un bot Ah no non è un bot Cioè questo dovrebbe essere Stato praticamente Un one hit Sicuro Distrutto Bella GG Ok vabbè Poverino Assolutamente massacrato Nonostante Avesse avuto tanto tempo Per gestirsela Ma ok Queste foglie Del nuovo aggiornamento Mi danno Un inquietudine Sembrano tutti nemici Uh Madonna Me l'avevo sentito Un tizio in zona Ma questo lo meno Questo lo meno Questo lo meno Dai Ma come l'ho fatto ragazzi Questo lo distrutto No sono sicura Non lo devo far curare Non lo devo far curare Dai 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 Devo fare solo così Devo fare così Devo dare fastidio Non ho capito chi stava sparando Però Ho paura che non stesse sparando Un semplice botto Ho paura che stesse sparando Un nemico Però Dai ci avrebbe già sparato Di prepotenza Ho lasciato curare Una bomba Sto tipo Che noia Ho perso tutto il mio vantaggio Tattico Il problema è che qua Siamo troppo esposti Ah No 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 Calmi c'è un problema C'è un problema Un tizio ha lanciato Ok Il problema L'abbiamo capito qual è Stiamo quattro persone qui ragazzi Ho capito qual è il problema Come cavolo È salito Scusate Molto confuso